La segreteria della CGL di Napoli, penso che iniziativa bellissime come queste dovrebbero essere fatte in tutte le scuole, perché di queste cose bisogna parlare, bisogna parlare soprattutto con le giovani donne e con i giovani, perché se ne parla sempre troppo poco. E purtroppo dobbiamo dire che in Italia, rispetto al resto d'Europa, su questi temi, sui temi della parità tra donne e uomini, siamo molto arrebrati. Io voglio ricercare questi cinque punti, ricordando che ci sono delle normative europee, dei grattati, che hanno stabilito dei grattati. Ebbene, c'è uno di questi grattati che si chiama Europa 2020, Europa 2020, che stabilisce che entro il 2020 il 60% delle donne dovrebbe essere occupato. La legge europea a oggi è il 58%. Sapete nel nostro territorio a quanto stiamo? Al 33%. Il 2020 è dietro l'angolo. Se solo si impiegassero le donne e arrivassimo a quasi 60%, ci sarebbe un aumento del prodotto dentista del prodotto interno lordo del 7%. Quindi ci sarebbe una crescita incredibile. Ebbene, ci troviamo invece in una situazione di avventramento pauroso nel nostro Paese. E queste cose che dobbiamo conoscere, che è importante, come l'ha detto prima, che dobbiamo parlare alla politica, perché ragazzi e ragazzi, è la politica che fa le leggi, è la politica che deve fare le leggi per favorire l'occupazione femminile, perché favorendo l'occupazione femminile cresce anche il prodotto interno lordo. Un'altra disseminazione che c'è in questi momenti può parlare di questo. La differenza valiale tra uomini e donne è del 25% in Italia. È un dato scandaloso. Perché è del 25%? Se le leggi prevedono che gli uomini devono essere pagati allo stesso modo delle donne. Lo prevedono le leggi, lo prevedono i contratti, ma non l'organizzazione delle nostre aziende. Perciò dobbiamo parlare pure agli imprenditori, perché nell'organizzazione delle aziende che cosa si prevede? Si prevede che per fare carriera bisogna andare fino alle 8 di sera. Si prevede che per avere gli incentivi di quei percorsi vengono messi gli uomini. Queste sono alcune delle motivazioni per cui abbiamo questo dato. Cioè una donna e un uomo che entrano in un posto di lavoro alla stessa età si ritrovano con una differenza valiale del 25% al 28%. Questo è un altro dato massimo. Ebbene, io ce la direi tanto, ma non aggiungo le altre cose, perché ci sono le mie amiche degli altri figli sindacati, la consigliera di Marta, che diranno il resto, perché sennò di Marta, che diranno il resto, perché sennò il resto, perché sennò il resto, ci sono le mie amiche.